Tanti turisti in giro per l'isola di Capri ma anche tanti che usufruiscono dei servizi dell'associazione Motoscafisti per vedere l'isola dal mare. Siamo la società cooperativa più antica, lavoriamo dal 55, portiamo gente in giro per l'isola, facciamo vedere le bellezze naturali di Capri e poi la Grotta Azzurra che è la maggiore attrazione dell'isola di Capri. Oltre la Grotta Azzurra cosa vi chiedono di vedere i turisti italiani e stranieri? Facciamo il giro dell'isola, ci sono tante altre grotte che possono visitare come la Grotta Bianca, l'Arco Naturale, la Baia di Marina Piccola, la Grotta del Corallo, la Grotta Verde. Sono delle grotte anche quelle molto interessanti e belle, naturalmente in tutto il mondo è molto più rinomata la Grotta Azzurra, sia per la tipologia di visita che si fa, con le caratteristiche barchette piccole e poi una volta che si entra dentro la Grotta Azzurra è unica nel mondo. Quali sono i turisti che maggiormente fanno il giro attraverso anche le vostre imbarcazioni? Noi abbracciamo un po' il turismo, i turisti che vengono da tutte le parti del mondo, diciamo i numeri maggiori per la nostra tipologia di lavoro sono sicuramente la massa che si muove dal Sud America e gli orientali, i giapponesi, i cinesi, i taiwanesi sono quelli che più richiedono la visita della Grotta Azzurra, mentre per i sudamericani è più richiesto il giro dell'isola e il giro allevante con la Baia dei Faraglioni, eccetera. I turisti italiani? I turisti italiani vengono tranquillamente, gli piace fare il giro dell'isola e poi magari scegliere l'opzione di farlo o non fare la Grotta Azzurra. Talvolta la Grotta si impiega del tempo, c'è un'attesa e quindi magari i turisti italiani preferiscono, dato che riescono a muoversi meglio sull'isola, preferiscono fare altri tour. Ci sono tante altre cose interessanti a Capri, non c'è solo la Grotta Azzurra e il giro dell'isola, c'è Villa San Michele, ci sono i giardini di Augusto, c'è la Villa Iovis per chi vuole salire sul Monte Tiberio. Capri è ricca di storia, c'è storia al mare, c'è storia anche a terra. Un'isola meravigliosa, ricca di risorse e cose da vedere. In primavera avevamo una situazione drammatica per il Covid, ora invece la situazione è sicuramente migliore, vi aspettavate tutti questi turisti? Allora, noi rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un incremento sicuramente di turisti, ci sono sempre gli italiani, a differenza dell'anno scorso si muove un po' più l'europeo, francesi, tanti svizzeri in questo momento, tedeschi, tanti dei paesi dell'est, ungheresi, cechi, stanno venendo a Capri. Ripeto, per muovere un po' di economia in più ci vuole tanta tanta gente in più, anche perché i costi di gestione a Capri per qualsiasi cosa sono molto molto elevati, quindi parliamo di cifre ancora molto molto dietro rispetto a due anni fa. Grazie.